ciao ragazzi 16 marzo questi per un crimine al giorno sono diciamo giorni di trattazione di argomenti che sono tranquillamente adattabili al periodo storico in cui viviamo l'uccisione della satira è l'argomento di oggi il 16 marzo insomma sicuramente rilevante per i tempi odierni ma qui siamo 16 marzo del 1914 quando in serata poco prima di cena fra le 18 15 e le 18 45 negli uffici redazionali del quotidiano le figaro avvenne l'omicidio di gaston calmette anni 55 il direttore allora di le figaro colpevole secondo la sospettata e poi processata henriette reinoire moglie di gioseppe lo ministro delle finanze di essere responsabile di una campagna diffamatoria nei confronti del ministro stesso che riguardava strettamente anche argomenti diciamo familiari o privati della reinoire e che essendo seconda moglie di gioseppe io e a quanto pare avendo incominciato a frequentare che io prima della fine della prima relazione con la prima moglie poteva essere sicuramente presa in causa si sentiva presa in causa di quello per quello che non sembrava essere una semplice campagna di satira ma una vera e propria campagna diffamatoria si presentò insomma nell'ufficio di gaston calmette verso sera e alla domanda lei che cosa fa qui che cosa vuole da me la risposta fu semplicemente un lei dovrebbe ben saperlo signor direttore e gli scaricò tre colpi di arma da fuoco tre colpi di brownie in calibro sei e cinquanta colpendolo a un lo stomaco a una gamba e a un braccio e uccidendolo sostanzialmente ehm pressoché sul colpo insomma fu portato via ma morì poco dopo in ospedale i testimoni oculari non furono eh presenti cioè non fu presente nessuno come testimone all'interno dell'ufficio furono presenti moltissimi al trasporto in ospedale del direttore eh che colpevole di questa campagna di satira morì eh colpito da questi colpi d'arma da fuoco ehm fu processata nel luglio dello stesso anno la Henriette Renoir ma riuscì a convincere la eh giuria sia che la campagna non fu una campagna di satira ma a tutti gli effetti una campagna diffamatoria sia eh che eh la pistola a quanto pare avrebbe sparato accidentalmente tre colpi uno di seguito all'altro per chiudere la bocca della satira in quel momento e ottenere anche una riconferma al ministero delle finanze del marito eh così tanto eh vilipeso ecco dal dal direttore di Le Figaro eh con questo crimine eh che riguarda sicuramente la libertà d'espressione oggi abbiamo chiuso ci vediamo come al solito domani con il nuovo crimine al giorno la nuova prossima pillola di crime su Crack Apart YouTube e poi ci vediamo come al solito domani con il nostro canale